Torna a Zoda Lapina, la competizione semiserie di automobiline di legno senza motore, in cui i concorrenti si lanciano da località Laghel e, affidandosi alla gravità, a insondabili artifici e indicibili talenti, passano da Largopina per giungere al traguardo di Largo Arciduca Alberto, non senza aver affrontato le difficili prove di cui è disseminato il percorso. La quinta edizione della manifestazione, organizzata come sempre dall'Associazione Gruppo Costruttori, si svolge sabato con inizio alle ore 21. 15 gli equipaggi al via, provenienti fin anche da Alessandria, Mantova e Brescia. Quest'anno la novità è che i piloti dovranno fermarsi in quattro punti per affrontare prove di abilità, come il tiro delle freccette, la pesca di un pesce da una vasca colma d'acqua, affrontare un toro meccanico ed infine, prima di tagliare il traguardo, i piloti dovranno scegliere quale corda tirare, tra quelle a disposizione legate a tre secchi, sperando non sia quella colma d'acqua. La festa si conclude con un pasta party e con le premiazioni che si svolgono al casino municipale. Nel pomeriggio si esegue la punzonatura delle vetture e la loro contestuale presentazione al pubblico, con la possibilità di cimentarsi con il toro meccanico. La quinta edizione è la prima che si svolge senza Roberto Bresciani, ex assessore e architetto scomparso pochi mesi fa, ideatore della manifestazione e una delle sue anime. A lui gli organizzatori e l'amministrazione comunale rivolgono un sentito commosso ricordo. Si preannuncia una gara molto agguerrita e Telegarda è riuscita ad entrare nei box del team di Oltresarca per strappare qualche indiscrezione sulle elaborazioni che verranno portate alle macchinette. Ecco, sentiamo allora, sentiamo chi si è intrufolato qua sotto la macchina, sentiamo Luca, Luca Sanna. Allora, come sarà questa macchina? Io penso che potrà tranquillamente competere con le migliori macchine, abbiamo anche interpellato un team di professionisti dell'ambiente, insomma, che ci hanno dato dei buoni consigli e vedremo di sfrutarli al meglio, dai. Però la macchina è tutta coperta, cos'è? Volete tenere segreto il look della macchina, il soggetto? Buongiorno, insomma, ci ha chiesto di tenere la coperta perché, insomma, dopo con tutti i soldi che ha investito, insomma, ha voluto un po' mantenere la privacy e avremo un'anteprima il giorno della gara, insomma, ecco. È solo per questo motivo. E tu Dario, Dario Ioppi, che sei un po' il caposquadra, insomma, cosa ci puoi dire di questa macchina? Cosa ci puoi anticipare? Ma, posso dirvi solo che la macchina è in via di definizione, ci stiamo facendo gli ultimi dettagli e sicuramente l'anno scorso è stato il primo anno che abbiamo fatto Zoda Lapina, io e Luca, e grazie a questa esperienza possiamo dire che quest'anno, insomma, daremo del filo da torcere agli altri team che ci saranno, che competiranno con noi, insomma. Ma in parte, almeno, si può vedere una parte di questa macchina? Eh, possiamo farti vedere forse un po' il retro della macchina, perché vogliamo che sia proprio una sorpresa per non dar vantaggio ai nostri avversari, quindi, se tu vuoi, noi ti scoppiamo un po' il retro per vedere, ma più di così non possiamo, perché abbiamo, a parte che abbiamo ancora da finirla, e quindi non è neanche giusto, insomma, deve essere l'ultimata. Però, così, insomma, se ti può bastare, per noi va bene, dopo il resto preferiamo tenere top secret. Ma la macchina avrà dei componenti truccati, elaborati? No, no, la macchina è secondo la normativa di Zoda Lapina, quindi i ruoti in legno con le boccoli interne in legno, solo i piantoni saranno in ferro, dopo il resto è secondo regolamento, quindi noi siamo a posto su questo. Insomma, il team oltre Sarca vuole partecipare per vincere stavolta? Sì, sì, il team oltre Sarca partecipa per vincere, sicuramente abbiamo buone sensazioni, faremo, faremo, sarà una bella serata, l'importante comunque è che sia, prima di tutto, una serata di divertimento, dove la gente si possa divertire, e che venga numerosa, il tempo che ci dia una mano e poi sicuramente sarà bella. Insomma, io invito più gente possibile a questa manifestazione, perché Mario con il suo team dei costruttori del Carnevale fanno uno sforzo enorme per la riuscita di questo avvenimento, e quindi speriamo che sia una bella serata, insomma. E tu che ti occupavi dell'aspetto più meccanico sotto la macchina, ci puoi anticipare qualcosa sul fatto del funzionamento, qualche trucco che avete adottato? Ma no, non abbiamo adottato nessun trucco, abbiamo solo cercato di far fronte ai vari sabotaggi che sono avvenuti l'anno scorso da parte di Dino Campo, perché ovviamente, vedendoci, e anche Raffaelli Lorenzo, in quanto vedendoci così forti già alla prima esperienza, ci hanno sabotato la macchina, insomma, ma quest'anno ci siamo presi un po' per tempo, abbiamo ripreso in mano lo stesso telaio dell'anno scorso, però aggiungendo delle migliorie che, insomma, faranno sì che quest'anno abbiano del filo da torcere anche loro, che sono dei veterani, insomma, nell'ambiente, ecco, insomma.